C'è un'ultima informazione che ci siamo dimenticati di dirvi, Voban non è un quartiere dormitorio, non è un quartiere dove le persone vengono solo per dormire, ma è un quartiere vivo, è un quartiere che offre anche tantissimi servizi, come vedete nella Voban Allé, nella strada principale, ci sono specialmente al piano terra di ogni edificio, supermercati, negozi, dentisti, parrucchieri, dottori, qualsiasi cosa di cui le persone normalmente hanno bisogno. Quindi se si dice che Friburgo è una città delle curse veghe, delle strade molto corte, anche nel quartiere stesso la distanza è breve, la distanza è brevissima e paradossalmente una persona può trovare esattamente dove vive tutto quello di cui ha bisogno. Se non trovo qualcosa qui, come vedete c'è un tram che ogni 7 minuti mi porta in città e quindi posso trovare qualsiasi cosa. Grazie.